Ciao ragazzi, qui Criminal Violet e bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui insieme ancora a Spock perché vedremo insieme un gioco che secondo me è più un'opera d'arte. Una fiaba virtuale. Che cos'è? Ma ovviamente è Child of Light. Vi rubo giusto altri due minuti prima di passare al gameplay perché volevo mostrarvi la Deluxe Edition, ovvero cosa c'è al suo interno. Allora, al suo interno troverete ovviamente il foglio con il codice da riscattare, ovviamente. Poi avete un altro foglietto con altri due codici per riscattare e sbloccare altri due pack. Uno comprende anche una versione alternativa del costume di Aurora. Versione un po' black, un po' dark. Così. Poi abbiamo questo che è carinissimo. Questo qua, adesso non so se potete vederlo bene. Metti a fuoco, metti a fuoco, metti a fuoco, metti a fuoco. È il portachiavi che si illumina dell'Inniculus. Che è quel goccino tanto carino. Che troverete durante il gioco. Poi, non è mica finita. Eh no, perché qua abbiamo una piccola confezione a piccolo prezzo con grandissime cose. Poi abbiamo l'artbook con dentro tutte le illustrazioni e concept art inerenti a Aurora. Vedete? Ad Aurora e i suoi amici, nemici, insomma, molto bellino. Tra l'altro, la carta di copertina è molto bella. Ricorda un po' la carta di riso. Ecco. E poi, abbiamo qui, scusate, devo leggere perché il nome per me è un po'... Ushita Kamano. Quindi, un poster a due di Ushita Kamano. È bellissimo. Ed è enorme. Lo prenderò in camera, sicuramente. Buonasera, ragazzi. Sì, questa volta è una notturna. Lo potete vedere dalla luce. Quante cagate che dico. Comunque, andiamo al sodo e proviamo questo bellissimo gioco di cui vi parlavo appunto prima, Shadow Flight. Il nuovo gioco di ruolo, appunto, è uscito praticamente il 30 aprile, quindi pochi giorni fa. E ora sono qui in compagnia della nostra carissima principessa Aurora. Lo so, lo so, avrete già sentito parlare della storia, ma ugualmente non vi voglio spoilerare nulla come al solito, perché voglio che vi gustiate appieno la trama quando sarete soli nella vostra cameretta. E ora, andiamo, partiamo. Quindi, vediamo un po' com'è. Allora, vabbè, i comandi sono molto semplici. Come dicevamo prima, il genere è un gioco di ruolo, quindi per voi amanti, soprattutto gli amanti dei Final Fantasy, per me, i veri Final Fantasy, quelli di una volta, anche i combattimenti vi piaceranno sicuramente. Approfitto di questo momento. Vi voglio linkare e ve la consiglio. Compratela. È bellissima la carola sonora, veramente. Oh, il nostro picco Igniculus. Ovviamente, con l'ingresso del nostro carissimo Igniculus, che io definisco un gocciolino tanto carino e dolce, potete giocare in due, quindi in multiplayer. Ne approfitto per ricordarvi la mia gamertag, che è Criminal Violet, sia su PlayStation 4, che Xbox One, che PS3, che 360. Sì, lo so, faccio schifo. Le ho tutte. Torniamo a noi. Ok, ora possiamo muovere sia Aurora, con la levetta analogica a sinistra, ovviamente, sia il nostro Igniculus, con la levetta analogica a destra. Eccolo qua. Quindi ci muoviamo insieme. Tiri dii. Tiri dii. Oh mamma, è rimasto indietro. Naturalmente qua sta vibrando tutto. Vieni Aurora. Andiamo. Ok. Questi sono i fiorellini delle piantine, che se voi sfiorerete, ok, avrete queste sfere di vario colore, perché ogni colore rappresenta o la vita, quindi i punti vita, o i punti mana. punti magia. Ok. Potete prenderli sia con gli Igniculus, che con Aurora, ovviamente. Eccolo qua. Ok. Eccolo qua. Eccolo qua. C'è come carino. Ok. Con il nostro gocciolino, e ovviamente, come dicono da istruzioni, premendo L2, il nostro gocciolino, si illumina. Basta. Perché ovviamente dovete stare attenti, perché l'energia e lo sbarlucicchio non è eterno, beh, la barra. Quindi, dobbiamo proiettare ogni simbolo sul simbolo corrispettivo. Quindi, adesso questo ci mettiamo un anno e mezzo. Ok. Voilà. Questo è il gocciolino. Prendiamo anche questa piantina. Ok. Ora non vedo l'ora di farvi vedere la modalità del combattimento, perché, ragazzi, io quando l'ho visto, ero troppo contenta. Mi ricordavo i bei tempi del bel Final Fantasy VIII. I miei Final Fantasy sono stati Final Fantasy VIII e X. Finalmente questa modalità di combattimento a turni. E che cavolo. Eh. Ogni tanto ci vuole. Scusate. Momento fuori di testa. Torniamo. E ammirate questo capolavoro. Lavoro. Ok. Vai Aurora. Prendi la tua arma. Ed eccoci qua. Altra chicca, che vi spiego ora, velocissimamente. Vabbè, sotto trovate la linea del tempo. Vi mostra per quanto tempo dovrete attendere o voi o i vostri nemici prima di lanciare. Ovviamente c'è l'azione, azione, pozioni, fuga, eccetera, eccetera. Durante la storia avrete la possibilità di incontrare vari BG che si uniranno alla vostra causa, alla vostra storia. Ovviamente c'è anche la difesa, il fendente, qua vi dà il tempo di lancio. Quindi calcolatelo bene, mi raccomando. Ok. Le animazioni sono bellissime. Voi potrete dire, sì, ok, niente di nuovo. Però, cioè, è molto carino il fatto che quando viene colpita Aurora, lì scade la cuoroncina. Cioè, sarà scontato, ma hanno veramente sviato ogni minimo particolare. Molto. Altro combattimento. Altra cosa interessante del nostro inicolo, il solucino. Lo possiamo ovviamente muovere durante i combattimenti e tenendo premuto L2, lo possiamo rallentare. Beh, ora andiamo, picchiamo, dai. Torno da Aurora. Altra chicca, con L2 vicino ad Aurora. Ora, ovviamente, carica. Ovviamente di vita. Ehi, eccoci ragazzi, anche questo gameplay è finito. Io spero di avervi dato una visione generale, ma molto intensa, delle features principali del gameplay di questo bellissimo gioco, che ripeto e vi consiglio di giocare, perché merita veramente. Anche se magari è il gioco a cui non siete abituati a giocare, ovviamente non è un Titanfall, non è un Call of Duty, ma è quel gioiellino, quella chicca che merita veramente le vostre ore di gioco. Quindi mi raccomando, provatelo, compratelo, perché sono sicura che non ve ne pentirete e... Ciao!